Il gruppo Totani, leader nel centro Italia per i veicoli off-road, approda a Pescara con una nuova concessionaria Suzuki. Il gruppo Totani dà un fornitore ufficiale anche per i veicoli con allestimenti speciali del Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Protezione Civile e Parchi Nazionali. L'azienda porta la sua esperienza nelle corsi automobilistiche internazionali, nel lavoro di tutti i giorni, offrendo soluzioni all'avanguardia per qualunque richiesta dei suoi clienti. Vendita nuovo ed usato. 4x4, magazzino ricambi e centro assistenza. E sabato 23 settembre e domenica 24 settembre, la nuova concessionaria Suzuki vi aspetta con il porte aperte per scoprire la new Swift. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever? Nel pomeriggio di sabato 23 settembre, dalle 17 alle 19, sarà presente anche l'inviato di striscia alla notizia, nonché pilota di rally, Jimmy Ghione, per scoprire insieme a lui tutti i segreti della nuova Swift. E in attesa di scoprirla direttamente con i vostri occhi, vi regaliamo qualche piccola anticipazione. New Swift è la compatta con i muscoli, che unisce una grande agilità di guida al comfort di un abitacolo spazioso. I don't want control, I want to let go. Are you ready? I'll be ready. Now it's time to let them know. You're ready. What about us? What about us? Il design funzionale e moderno degli interni si unisce alla connettività dei contenuti tecnologici. What about all the broken happy ever actors? What about us? What about all the plans that I could in disaster? Ma non vogliamo dirvi molto di più. Venite direttamente sabato 23 settembre e domenica 24 settembre per il Porte Aperte, qui presso la nuova concessionaria Suzuki a San Giovanni Teatino in via Aldomoro 250. Vi aspetta la New Swift, Jimmy Ghione e tanto astro ancora. What about us? What about all the times you said you had the answer? So what about us? What about all the broken happy ever actors? What about all the plans that I could in disaster? Ah, what about love? What about trust? What about us? What about us?